Beh, essere denunciato. Ok, calma, ti toglierò il tuo libro da sotto il piano. Sta morendo per avvelenamento da radiazioni. Se lei non avesse interferito, gli avremmo evitato tante sofferenze. Ma perché lo tormenta? L'avvelenamento da radiazioni uccide cellule specifiche in tempi specifici. I capelli dovrebbero venire via a ciocche, ma siccome così non è, so... cos'è quello che ha. Dio, è un cancro del sangue, il morbo di Walderstrom. Le radiazioni sono la causa delle infezioni. Se ci fossero prove di azioni sospette e evidenti, stareste torturando qualche boliviano invece di mettermi in stato di eccitamento sessuale. Curiamolo per tutte e due. Pessima idea, a meno che non sia tu che lo avveleni. Provvedo per la plasmaferesi e l'achemio. Si fida di lui dopo quello che ha fatto? Non mi devo fidare per essere d'accordo con lui. È un ottimo argomento. Ho commesso un mucchio di sbagli, ma a te non dà retta. Quindi o io le piaccio alla follia o lei odia a te alla follia. E io sono venuto col jet. Oh, ciao. Che cosa ci fai qui? Sono passato a salutare. Ciao di nuovo. Dov'è la signora Berman? L'ho mandata a casa. Ma doveva fare un angio risonanza. Se dovessimo farla a tutti quelli con il mal di testa... Non era un mal di testa, era il peggiore della sua vita. Allora buon per te che sia un neurologo. Ha mangiato formaggio e bevuto vino. Entrambi scatenano le migranie. Non ne ha mai avute prima. E io non avevo mai assaggiato i mirtilli prima che me ne offrissero. I mirtilli non uccidono. Questo è un classico aneurisma cerebrale. Wow. Davvero una bella lezione. Se sbaglio con il paziente di qualcun altro, rischio di passare per un maledetto invadente. Rintraccia la signora Berman. Aspetta. Non importa. Divertente. Non è divertente, è del tutto immaturo. È divertente. Tu non lo apprezzi perché sei la vittima. Già, mi merito la vergogna e il ridicolo per un consulto, inaudito per un medico. Tu non hai offerto un semplice consulto, hai offerto un consulto alla Foreman, ti sfido. Per il bene del paziente, Aus l'avrebbe fatto. Magari quando verrà a saperlo, piangerà lacrime di orgoglio. Credi che io voglia impressionarlo? Credo che per non essere più coinvolta nel suo team, tu sia molto coinvolta nel suo team. Lascia perdere. Lascialo perdere. Questo è maturo. Non è vero. Grazie a tutti